La giornata di oggi è stata interessantissima perché mi ha permesso di mettermi in gioco insieme agli altri, di condividere un'esperienza non soltanto da un punto di vista tecnico, ma proprio da un punto di vista umano, di relazione, di condivisione. Conoscersi con altre persone che sono di diversa età è sempre una cosa che può aiutare. Quello che abbiamo messo in gioco stamattina era semplicemente l'entusiasmo e cercare di utilizzare quelle poche nozioni che abbiamo appreso in questi giorni, personalizzandole poi e creando l'ambiente BIM anche con una semplice rappresentazione. In realtà è venuto fuori l'anima di ognuno di noi e nel gruppo in particolare ognuno di noi si è esposto, si è esposto con la propria idea, con la propria personalità, con le proprie capacità, quindi è stato importante conoscerci anche da questo punto di vista. È servita anche per amalgamare il gruppo, fare un gruppo più coeso, un gruppo che sappia affrontare delle sfide insieme. Ha segnato veramente un momento importante di unione, quindi di costruzione vera del gruppo. La somma dei vari elementi è qualcosa di più che una semplice somma, ma è un prodotto di idee e di capacità e di talenti. Grazie per la visione!